L'indiscrezione di oggi riguarda Yari Carrisi, il figlio di Vomina Power, e Albano Carrisi. La partecipazione di Yari Carrisi al concerto l'anno che verrà e la sua esibizione insieme alla madre Vomina Power hanno generato diverse critiche sui social media. Molte persone hanno criticato il suo look, che è stato definito da alcuni come da sciamano, e la sua performance. Alcuni commenti negativi riguardo a Yari e sua madre hanno dominato i social. Successivamente, durante un'intervista come ospite da Caterina Balivo, Yari Carrisi ha rimosso le scarpe, attirando l'attenzione della conduttrice. Quando le è stato chiesto di spiegare il motivo di questo gesto, Yari ha affermato che i suoi malesseri derivano dall'uso di scarpe con suole di plastica e che sarebbe meglio camminare a piedi nudi direttamente sul pavimento per eliminare alcuni problemi e scaricare l'elettricità statica. Yari è solito atteggiarsi con alcune particolarità e stranezze. Prima di continuare con l'articolo, scrivici nei commenti cosa ne pensi delle stranezze di Yari e se le ritieni solo piccole stravaganze simpatiche o fastidiose. Le spiegazioni di Yari non hanno convinto alcuni follower, che hanno continuato a criticare Yari Carrisi. Alcuni hanno sarcasticamente commentato che abbiamo toccato il fondo, mentre altri si sono mostrati perplessi sulla rilevanza del gesto e hanno sottolineato che i talenti dei suoi genitori non sembrano giustificare il suo comportamento. Un commento più duro ha definito il suo gesto una sceneggiata penosa e ha suggerito che indossare scarpe comode avrebbe avuto un impatto minore rispetto alle sue affermazioni.